Ciao a tutti, oggi ci occuperemo brevemente di Guido Gozzano. Prima di tutto focalizziamo la nostra attenzione sulle parole chiave che ci aiuteranno a comprendere meglio l'autore. I colloqui, la raccolta poetica più importante dell'autore. La poetica delle buone cose di pessimo gusto. Con queste parole possiamo sintetizzare la poetica di Gozzano. La tubercolosi, una malattia che porterà Gozzano alla morte in età precoce. La malattia, pur essendo un momento critico dell'esistenza del poeta, lo aiuta a prendere coscienza di sé, di quello che è il ruolo del poeta all'interno della società, aiutandolo quindi a guardare il mondo con occhi diversi, attraverso un punto di vista differente e, se vogliamo, elitario. Vediamo ora brevemente dei cenni biografici. Guido Gozzano nasce a Torino nel 1883, lo stesso anno in cui Verga pubblica la raccolta Novelle Rusticane. Il Piemonte, Torino e tutta la provincia di Torino fanno da sfondo agli anni della sua giovinezza. Il poeta si iscrive alla facoltà di legge senza mai portarla a termine. Tuttavia, l'ambiente universitario fa nascere in lui l'interesse per la letteratura. Gozzano, infatti, comincia a frequentare e a seguire numerosi corsi presso la facoltà di lettere, avvicinandosi così alla poesia dei simbolisti francesi e di D'Annunzio. Sarà proprio D'Annunzio a rappresentare un modello di riferimento, prima assorbito e poi rovesciato in maniera parodica. Nel 1907, Gozzano pubblica la sua prima raccolta poetica dal titolo La Via del Rifugio e comincia a comporre un poemetto rimasto incompiuto dal titolo Le Farfalle. Questo poemetto verrà pubblicato in parte nel 1914 sul quotidiano La Stampa. Nel 1911, Gozzano pubblica la sua raccolta poetica più importante dal titolo I Colloqui, che ottiene un buon successo sia dal punto di vista critico sia da parte del pubblico. Contrae la tubercolosi e nel tentativo di guarire o perlomeno di alleviare i sintomi della malattia, tra il 1912 e il 1913 si reca in India. Diversi componimenti composti in questo periodo confluiranno in una raccolta di poesie dal titolo Verso la cuna del mondo, pubblicata un anno dopo la morte del poeta, avvenuta nel 1916. Passiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i vari aspetti. La malattia. Abbiamo detto che la malattia condurrà Gozzano alla morte, ma allo stesso tempo la malattia diventerà il simbolo di quell'inettitudine alla vita tipica di molti autori e di molti personaggi d'inizio novecento. La precaria condizione fisica impedisce infatti a Gozzano di partecipare attivamente alla vita sociale e lo spinge all'auto isolamento. Da questa prospettiva, che diventa di fatto elitaria, il poeta diventa l'intellettuale che vive lontano dalla massa, colui che prende le distanze da quella borghesia rimasta indifferente alla vera arte, concentrata esclusivamente sull'utile e sulle cose materiali. Mi vergogno d'essere un poeta, scrive Gozzano nella Signorina Felicita, rimanendo ingabbiato però in una condizione di isolamento che gli impedisce di reagire, rendendolo di fatto un inetto alla vita. È come se il poeta fosse una delle tante cose presenti all'interno della società. E sono proprio le cose ad essere protagoniste della poesia di Gozzano. Le buone cose di pessimo gusto che compaiono all'interno della lirica di Donna Speranza indicano quella che è una nuova maniera di guardare agli oggetti. Non ci troviamo più di fronte alla poetica delle piccole cose di Pascoli. Gli oggetti hanno perso la carica analogica che avevano assunto nella poesia del Pascoli. Questi oggetti non aprono quindi la strada verso nuovi significati nascosti, ma sembrano restare lì immobili, quasi a voler restituire quello che Gozzano chiama odore di passato. Rappresentano l'immagine di un tempo ormai trascorso che rende tutto corroso e innaturale. Compaiono quindi le cartoline ingiallite, i vecchi tappeti, le case, i giardini in rovina, le soffitte, tutti oggetti che riportano la mente al passato, ad un passato che però non può essere recuperato perché è un passato che fa percepire quello che è il distacco temporale, la distanza effettiva dal tempo in cui l'oggetto era vivo e il tempo in cui noi oggi viviamo. È come se l'uomo percepisse questo distacco ma non riuscisse a dargli un nome. Ed è il poeta l'unico capace a interpretare tutto ciò. Il poeta è colui che in maniera consapevole si inserisce all'interno di questa sensazione, di questa rievocazione malinconica che scaturisce, che è generata dalla visione di questi oggetti. Il poeta attraverso l'ironia e il distacco riesce a presentarci questi oggetti che sembrano rappresentare l'immobilità dell'esistenza, l'impossibilità di recuperare il passato. Questi oggetti sono spesso rinchiusi al sicuro, un po' come fanno le persone che si chiudono in se stesse per cercare di non smarrirsi, per cercare di non perdere i propri valori. Le cose diventano quindi dei veri e propri oggetti mediatori che consentono una regressione temporale in un passato che può essere collettivo, come nel caso del risorgimento, che viene rievocato più volte da Gozzano, eppure snaturato in qualche maniera in una dimensione un po' kitsch, quindi in quella dimensione che riporta la rievocazione nostalgica, ma che mette in luce anche la mancanza di gusto, di originalità e di ispirazione delle persone che andavano a popolare quella parte della storia. E allo stesso tempo la regressione può avvenire in quello che può essere un passato personale. tutto è però proiettato appunto in quel mondo provinciale che da una parte è riuscito a sfuggire alla travolgente modernità, ma che dall'altro tende ad apparire vecchio e che ha bisogno di essere dissacrato attraverso l'ironia. Montale definisce Gozzano come il primo poeta che attraversa D'Annunzio per approdare a un territorio tutto suo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, come tanti poeti, Gozzano conosceva D'Annunzio, il poeta per eccellenza in quel periodo, ma lo aveva conosciuto, assimilato e dissacrato. Lo aveva desublimato. In Gozzano assistiamo alla desublimazione del linguaggio, di quel linguaggio, di quella parola che era stata tanto cara a D'Annunzio. Il linguaggio di Gozzano non è più quello aulico, ma è un linguaggio abbassato, un linguaggio che approda nella dimensione quotidiana, nella dimensione colloquiale e pertanto diventa prosastico. Tutto ciò si esprime ovviamente nella raccolta di poesie i colloqui. All'interno dei colloqui Gozzano va a rivisitare le forme metriche classiche, la quartina, la sestina, i distici, gli endecasillabi rimati, i novenari doppi e li alterna alcune volte a dei versi più brevi, inserisce delle rime imperfette, delle assonanze. Insomma, va a modificare questo verso e a dargli una nuova vita, una vita che lo porta, che porta la poesia decisamente verso quella che è una prosasticità narrativa, che è tipica proprio di tutta quanta la raccolta di poesie. Le poesie che fanno parte della raccolta dei colloqui sono divise in tre sezioni, il giovenile errore, alle soglie e il reduce. Il giovenile errore, quindi la prima parte delle poesie, ha un evidente richiamo petrarchesco e mette quindi in luce quella che è la caduta delle illusioni, non solo amorose, ma in generale delle illusioni che l'uomo tende a costruire. Nella seconda parte fondamentale è l'esperienza della malattia che diventa un po' un'attesa della morte, questa morte che sembra essere sempre minacciosamente presente. Nell'ultima parte invece appare il tema dell'esilio, dell'allontanamento dalla vita e continua a comparire anche la morte.